salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con questa 26esima puntata di gta allora siamo qui in compagnia di mostrina cosa ci ha preparato qua mostrina succo verde o che non portare in noi abbiamo vuldir e agri e cobra bene io non posso direi che possiamo partire no abbiamo una missione da fare qui dentro la stanza si vuole partecipare qui dentro dunque cosa abbiamo di bello oggi allora a di sono diversi recuperi da fare tra l'hacking tra robe di un convolio per carmi militari e delle moto va bene allora quale partiamo a dalla prima va che bea stampante no l'ultimo volevo ma che perca si ma fronte retro fronte retro colori anche la versione h2o turbo difficoltà normale facile e difficile normale direi normale boh pronti si va attenti via via siamo pronti e attenzione che ho messo in utilizzo la nuova macchina che però devo ancora customizzare perciò guarda mostrina che boffice che silhouette guarda il punto dovresti vederlo qui circa qui dove c'è un punto viola sulla mappa punto blu blu si 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 blu viola che sia ma ma che male che si va senza senza il marcarlo ok ora si può partire devo sistemare un po' sta macchina perché cavolo si mi sa che devi sistemarla anche in altri modi quella macchina si no va un po' è ancora originale quindi la tenuta di strada è un po' piccaminosa dai dai dici che non sei incapace di guidarla faccio e beh vedete che sono anche a trio guardardo dove dove andare ecco bravo distrazione della guida sono abituato con la turismo r che ha una leggera tenuta di strada in più occhio macchine che taglino la strada ottimo scudo c'è un pericolo alla guida e non penso sia l'ottima idea il furgone si serve però è pericolo alla guida mi sa che va giù ma guarda che cattivezza ora dobbiamo salire sul furgone esatto tutti 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 ah sta macchina qua è bella ma va sistemata Marco viene da trio no no qua davanti va che è meglio ma guarda vai andiamo via ciao ma è montata ed è scisa hai messato l'agri che mi ha buttato giù come è no? non è vero andiamo oh oh no dai che dopo ci vedono chiudi che vtira aria chiudi la porta eh no le pachie asco le zai per quella e poi ne va ogni volta che uscì basta ahah è trovata la chiave porza ecco ma cos'hanno le macchine stasera che sono tutte ah no no vanno altre eh sì non serve l'accellino in macchina noo te la accendi sigari no che a meno se un mostrino scoreggia sappiamo ah, giusto, giusto che successe le cose non dobbiamo farci tanto notare eh eh no stavo pensando nella stessa cosa ce la fa il furgone c'è una marcia anche due, tre, quattro, tutte no, brava, vai in grillo che facciamo bubussette mentre vi la gente quindi siamo a la maschera via 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 però il caracadute non so perché c'è una sparatoria in corso uno è morto uno? uno solo uno alla volta attenzione dietro al camion un attimo che mangio dei snack coprite dietro il camion io tengo gli angoli qua davanti guardala in fondo vediamo il cuchiquino lo miro si si dai oh chi è che mi spara quasi morto c'è uno in fondo è dietro la casa ma non è morto adesso ritornerà su di nuovo con il cuchiquino ma ho un cuchiquino un po' scarso ok l'ho colpito però non è morto ora è morto adesso il colpito di sicurezza adesso abbiamo zero vite perché bisogna stare nei denti da non morire ricarico ok penso sia morto ne abbiamo uno qua però in angolo probabile io non c'era un razzo ne sono 4 ancora ok uno è morto adesso 2 ne mancano 3 ne mancano eh uno l'ho visto che no lì ah sono ok posto occhio 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 per la preso salgo su manca uno è sopra aspetta no no eh si possibile possibile è possibile controllo si era sopra su delle scalinate ok morto è morto bene vediamo sopra ok vale sul furgone ok dobbiamo scendere ok no 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 non è previsto no vabbè non dico niente ricordo solo che abbiamo zero vite per cui non c'è concessa una seconda rinascita pericolo alla guida ah no no eh perchè perchè sei dietro eh ma solo il trasportatore può guidare il furgone si eh infatti perchè il trasportatore va dietro ma vabbè muoviti eh sono il trasportatore aiuto non me ne frega un cazzo ti lasciamo qui muoviti non ho voglia di correre oggi oggi sono stanco dobbiamo andare va bene per tanta strada qui a destra prende una mano a destra ma non troppo ops eh eh sono sporcate le gomme di rosso ah no vai tranquillo dove dobbiamo andare? qui sono sul parcheggio a fianco all'altro furgoncino bene quindi? eh dobbiamo aspettare che vai 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 vada 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 via stacca un filetto vada voilà ah non ho più internet sul telefono ah router dai marco via 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 eh che serviva a me serviva trac via 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 oh adesso? adesso sali sul furgone nero ah no sul furgone è nero perchè sono salito sul bianco sono salito sul nero ah 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 che due voi avete guidato quello bianco adesso io i posterini sono usci- via che? ci dovete dire che ho uo um posterina? si si oh oh aspetta ho fucile avanzato fuori dalla zona ok ecco zài sà sferso uh mosterina del rio Che traffico, guarda, la gente è piena di fronte al lavoro Eh, ma è Eh, guidare dritti per piacere, che non riesco a mirare Chi è che mira qua? Come faccio a mirare io? Sali sul fulgone bianco Questo è il messaggio che dice Eh, agri devi tornare indietro, diciamo Eh, lo so, ho visto, è che c'era proprio lì che mi ha tagliato la strada Eh, covra, covra, uccidili tutti Brandi, sinistro, vedi, era una tattica Esatto, diversivo, ottimo, ottimo lavoro, soldato Eh, le lettere Ok, andiamo, restiamo con il fucile d'assalto Che mi sta sotto qua Ma, porra, scolo fuori, ora sto chichando in me te le strada Bisogna tornare indietro, mi sa Per quanto dice il navigatore No, mi, me, di scendere qua Se ne ha, se ne ha ancora uno Ma tu ti dici andare qua, allora sono solo io che me lo devo tornare in fondo Ok, sì Allora, aspetta, non ti fermo qua Ma, po- Ho visto che roba? CRETIRO Persona aiuta Abbiamo perso uno E ho tornato in fondo io Distruggi il frigone Aspetta aspetta che esco Eeeeeee No Ok Chi è che ha fatto esplodere il frigone Si è distrutto da solo Esatto E dobbiamo tornare a casa a piedi Non lo so ho trovato una macchina E' andato in giro Cobrix doveva andare via col frigone bianco Eh no aspetta che il trasportatore consegna il frigone Aspetta che vado a vedere se ha perso soldi Forse l'estero non è stato chiaro Su questa Su questo incarico che c'è Poteva dirmi no? Beh Andiamo a prendere un caffè intanto Qua c'è il mare Ah io sto qua sulle scalinate Sul pergolo Quasi riato eh non manca molto Al furgone Sì abbiamo preso il furgone nero per Però io forse dovrò rimanere qua con il furgone bianco Per aspettare poi che andate via Quello la Si ma ci andate via giusto per Pardare il tempo al server Di copiarsi Oh Ma Ma Dai Dimmi ancora dos Marco Marco ti ho portato un regalo Guarda che macchina nuova Bella fiamante E' una bomba sta macchina vuoi vedere Guarda Guarda Wow Che bomba Nell'attesa che Cubrisky Compia la missione Proviamo una macchina Cabrio Che cento metri mi mancano Guarda 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 E' aerografato, va che bello E' il winner è... Yuhuu Yuhuu Platino Guarda, argento Oh, oh Diamante 20.900 E' monsterina a bronzo, perchè è quello che si merita No, è diamante No, no, dopo essere morto una volta E' quello che ti meriti 15 volte volevi dire Sì, beh, non diciamo Altri in più Perchè noi quando facciamo le missioni con monster Ci danno 80 vite Perchè sa benissimo Rockstar Che quando c'è monster ne consuma 81 Oh, pioe Pioe Dai, come sto prendendo tutto? Bene ragazzi Commentate, iscrivetevi Lasciate un bel like Salutiamo qua Agri Salve a tutti Eeeh Gioi ma bocce Sì Ok Ah Eh Eh Via via ha fatto un volo ringraziamo anche cobra e mostrina ciao a tutti e alla prossima ciao ciao